Allora, assaggiate e ditemi esattamente gli ingredienti che ho usato. Il pollo. E dagli questo pollo. È una zuppa di pesce. Oltre al pesce, che cosa ho messo? Che cosa c'è dentro? Tu? A me il pesce fa cagare. Vabbè, inizio io. Allora, c'è il pane, il pomodoro. Poi? Tu? Aglio? Aglio, bravo! Bene, dai, poi? Alloro, Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla... Porca puttana, li hai azzeccati tutti. No, 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 c'è anche rosmarino. Ora sono tutti. Hai voluto esagerare, vedi, il rosmarino non c'è. Il rosmarino è presente, seppure in minima quantità, ma è presente. Se ti dico che non c'è, non rompere, no? Non c'è il rosmarino. Eh, vabbè, dai, un po' di rosmarino ce l'avrei messo, no? Ma non ce l'ho messo, perché gli devo dire una cazzata, scusami? Questo è l'olio. Stai calmo, però. Dai, lo sapevi? No. Che c'è? Il palato assoluto? È bravo qui. Buongiorno. Posso aiutarla? La dottoressa Morelli? È di qua. Eh, sono io. Grazie. Prego. Salve. Salve. Arturo Cavalieri. La mano è il massimo. Vero Guido? Vero. La mano è piena di germi e trasmette malattie. Scusi, l'avevo chiesto se lei è del secondo livello. Non mi ha risposto. Lui è del massimo livello. È uno chef famoso, allievo del maestro Celso Conti. Sai che qualcuno qui ti ha googolato? Sì. Ha lavorato a Londra, New York e Parigi. Tre stelle Michelin. È diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Vabbè Guido, poi ci raccontarai. No, no, lascialo continuare. Si è informato bene. Sì. Inoltre è stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. La sua ultima condanna risale al 2017. Nell'ambiente è noto per il suo carattere impulsivo. Va bene, basta, basta, basta. Hai sentito che cosa ha detto la dottoressa? La dottoressa fa parte del passato e l'acqua passata ormai. Guido, ci sei? Senti, sono qui con Arturo. Ci apri? Dai Guido, che fai? Chiudi in bagno. Fai preoccupare i nonni, dai. Ho capito, va bene. Oggi ho esagerato e ti chiedo scusa. Va bene, scusa? Però adesso apri sta porta, dai! Allora Guido! Ma che fassi, calmi! Sì, signora Ivana, lo scusi è che siamo tutti un po' preoccupati. Io voglio andare al concorso! Io voglio andare al concorso! Io voglio andare al concorso! Sì, sì, ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta! Partiamo mercoledì alle 15.30, d'accordo? Ma partiamo chi? Eh, non hai visto la scheda? Io ti ho indicato come tutor. Non ho capito. Come mio accompagnatore. Io al contest con quello non ci pensare nemmeno. E poi domenica ho un impegno. Eh, appunto. Il contest finisce sabato. Ho bisogno di tempo, devo studiare un menù. Ci penso io a farti fare l'autorizzazione dell'assistente sociale per la trasferta. Tanto basta un pezzo di carta. È la mia ultima settimana. Mi potresti dare un po' di tregua o no? Allora, senti, è la prima volta che Guido fa una cosa di sua iniziativa e sembra che la voglia portare fino in fondo. E poi tanto lo manderanno via subito. Dopo la prima prova, la seconda, non lo so, non lo so. Hai bisogno di cambiare l'acqua al pesce? Fisciare, mingere, orinare... Ah... E dai Guido, però almeno una ventina di queste espressioni figurate. Imparale a memoria, io lo dico per te. Io comunque preferisco farla all'aperto. La nonna mi dice che nei bagni pubblici si possono prendere i parassiti. Sì. Va bene, io vado a bere qualcosa, piscio, prendo le piattole e torno. Va bene? È stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. Tre stelle Michelin è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla... Porca puttana, li hai azzeccati tutti. Alla patente? È il foglio roca. Sono ragazzi con sindrome di Asperger. Ditemi gli ingredienti che ho usato. Il pollo è una zuppa di pesce. A me il pesce fa cagare. Dì la verità, sei anche tu ai servizi sociali. No, guarda che qui l'unico criminale sei tu. Marione mi garantisce che sei uno apposta. Si tratta di un lavoro a tempo determinato. Determinato quanto? I ristoranti si aprono e si giudano. Io voglio andare al concorso! Ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta. Partiamo mercoledì alle 15.30, d'accordo? Ma partiamo qui? Se vinco lo stage, mi pagano. Mi compro la macchina e trovo una fidanzata. Ah, è automatico. Vinci lo stage e vinci anche la fidanzata. Sì. Papà, ti presento Guido. Piacere. Però tu adesso mi devi dire qualcosa del tuo, di padre. Si arrabbiava sempre con me. E lo sapeva che tu sei. Asperger? Eh. No. Lui pensava che ero scemo. Secondo te le piaccio? A parte che ti vesti di merda sei un bel ragazzetto. Non t'ho sentito! Full power! Full power! Full power! Traffiche in aumento. Una macchina sola, con calma. Traffiche in aumento, Arturo! Sì. Ah, Guido. E basta. Ecco quanto basta. Basta così. Già è il finale. Già è il finale. Già è il finale. Un almeno. Chià è il finale.